I reperti archeologici sono stati ritrovati nella Grotta di Polla, che da tempo è all'attenzione dei ricercatori dell'Università del Molise. La scoperta è stata annunciata, ma i contenuti al momento restano top secret. A guidare il gruppo di studiosi e ricercatori della campagna di scavi nella zona del Diano è Antonella Minelli, docente di scienze umanistiche, sociali e della formazione nell'Ateneo Molisano, da anni impegnata nelle indagini archeologiche. Il contenuto dei ritrovamenti, fa sapere l'Unimol, sarà svelato nel corso di uno specifico convegno, programmato nelle prossime settimane. Minelli e il suo staff hanno lavorato senza sosta per due settimane all'interno della grotta, nei pressi di un convento, con il sostegno di altri docenti e di alcune studentesse.